ragazzi ma ma questa operazione di mercato non mi convince per nulla in casa lazio sarà che magari un free agent svincolato quindi vai a pagare solamente lo stipendio del giocatore e non il prezzo del cartellino che se vuoi un domani a prescindere può essere che qualche plus valenza ce la fai siccome lo prende a zero ma per quello che può da lazio se non sta bene fisicamente sinceramente parlando non lo vedo non lo vedo adeguato no è lo stesso discorso che ho fatto con spinazzola a napoli se sta bene un grande giocatore ma se non sta bene fisicamente diventa un problema di che sto parlando ragazzi sto parlando di gaetano castrovilli sì perché gattano castrovilli è un nuovo giocatore del lazio ragazzi come free agent firmerà un triennale nella squadra bianco celeste da come dice sky sport è fatta e in settimana ci saranno le le visite mediche ragazzi gaetano castrovilli lo conosciamo no ai tempi della fiorentina i primi tempi della fiorentina sembra un giocatore veramente forte di qualità ottime doti doti ottime infatti fu convocato anche a quel famoso europeo dove poi vinse anche lui no l'europeo ovvio non da protagonista perché se non sbaglio castrovilli non mi ricordo neanche quanto giocò con l'europeo però comunque era lì con roberto mancini con quell'italia e quella convocazione ci fu stata perché comunque gaetano castrovilli in quel periodo di storico dimostrò di essere un grande giocatore no un bel tiro a giro comunque visioni di gioco abbastanza importante dribbling era un misto di cose che lo rendeva un ragazzo veramente molto molto interessante il problema è che però poi ragazzi sono venuti a seguire furtui infortuni su infortuni dopo questo ragazzo si è perso alla fiorentina tant'è che poi alla fine ha ricominciato a riprendere a giocare qualcosina fine anno l'anno scorso però è stato veramente lontano molto molto fuori dal campo per via di tanti infortuni e tante ricadute che hanno comunque distrutto un po questo ragazzo anche a livello di una carriera futura che potrebbe essere interessante infatti calentano castrovilli come vediamo qua ha vinto il campione come trofeo ha vinto il c'è scritto proprio il campione d'europa con quelli tagliari del 2020 con mancini che poi si giocò nel 2021 prima del covid è un giocatore che nel 97 c'è 27 anni noi 17 febbraio ne fa 28 quindi è appieno della sua maturità calcistica da questo punto di vista alto 1 tra 7 ed è un centrocampista centrale transfer market lo valuta 7 milioni di euro quindi vedete alla fine la lazio lo prende a zero e alla fine se lo riesci anche a valorizzare a livello economico è un affare perché è un affare vale 7 lo prendi a zero e un domani comunque lo rivendi a prescindere che il giocatore deluda o non deluda una plus valenza una plus valenza tu ce la puoi fare con il ragazzo però ragazzi ripeto per quello che ha perso la lazio in questi anni tra il milenco vissavic adesso arriva anche luis alberto al momento si è andato a sostituire camada con badia shiru che trequartista poi ci sono luis alberto bianco vissavic che sono comunque ancora dei buchi se uno con guendusi vero l'altro adesso con chi lo prendi con con castrovilli ovviamente no castrovilli sicuramente farà specie di riserva sarà un panchinaro che all'occorrenza subentrerà e provarà proverà dire la sua però ecco la la lazio ha perso tanto a centrocampo c'è quest'anno ha perso camada luis alberto e l'anno scorso minco vissavic io questi buchi qua ancora non li vedo non li vedo coperti per niente c'è una lazio molto scoperta da questo punto di vista e da questo punto di vista qua ancora che lo ripeto scusate deve fare molto meglio di così castrovilli poi per carità è un giocatore inutile perché secondo transfer markets lui ha certo che a vista centrale è una mezz'ala pura però l'occorrenza può fare anche il trequartista oggi può anche giocare come alla sinistra all'occorrenza però ripeto non mi convincono non mi convince assolutamente la cartella clinica di castrovilli perché è un giocatore che purtroppo ha dimostrato che il suo fisico non parliamoci chiaro il suo fisico ragazzi non negli ultimi anni non ha retto non ha retto e adesso andiamo a vedere il rendimento del dettaglio dell'anno scorso ma se non mi ricordo male e non mi ricordo male ha giocato pochissimo l'anno scorso mi sembrava di averlo visto subentrare nelle ultime partite se vogliamo di di campionato però anche lì perché perché ha avuto un infortunio poi non si è più visto praticamente durante l'anno se non se non a fine anno con quella fiorentina nel frattempo il rendimento quello diciamo complessivo da quando castrovilli gioca nel mondo del calcio quello che conta ha fatto un totale di 280 presenze con 42 gol e 34 assist per un totale di 19.215 minuti giocati quindi nel senso quando il giocatore sta bene comunque il suo il suo impatto lascia perché comunque 42 gol e tutto non sono comunque pochi problema che è più quello che è più quando ce l'ha più quando non ce l'hai che ce l'hai ecco nel senso il bilancio complessivo è questo ripeto 42 gol e 34 assist non sono pochi tra l'altro castrovilli nella sua carriera ha giocato un po ovunque se vogliamo perché ha fatto 160 partite come centrocampista centrale con 25 gol e 18 assist poi ha fatto 53 partite come trequartista 9 gol e 9 assist poi ha fatto 20 partite come ala sinistra facendo 5 gol e 6 assist e poi ha fatto anche 9 partite con ala destra però 0 gol e 0 assist ha fatto 6 partite a mediano con 0 gol e 0 assist ha fatto 5 partite a centrocampista di sinistra con 0 gol e 0 assist ha fatto 3 partite la seconda punta con 0 gol e 0 assist ha fatto 2 partite come centrocampista di destra facendo 0 gol e un assist e poi addirittura ha fatto anche una volta alla punta centrale facendo 0 gol e 0 assist diciamo che lo metti un po ovunque però ovviamente i tre ruoli che spiccano un po di più sono il centrale soprattutto a prescindere il tequartista e lala sinistra come diceva in precedenza e transfer market è un giocatore che ripeto a 0 lo puoi anche prendere perché comunque poi a oltre a pagare lo stipendio non fai e quindi ci può stare come operazione da parte di rotito però ecco non è questo che comunque ti fa svoltare il centrocampo se l'anno scorso hai perso savi ci ha preso guendusi e preso camada preso novella quest'anno quello che ha preso camada già se n'è andato va via luisa alberto che era il mago il fulcro no che dopo mi incovissavi c'era lui adesso non ce n'è anche più luisa alberto capite un po voi che quella fa quel centrocampo lì se un tempo era il punto di forza della della lazio adesso è un po un punto debole il centrocampo quindi la lazio deve deve comunque rifondare questo centrocampo che ormai è debole abbandonato l'anno scorso vi ripeto ha giocato pochissimo ha fatto 26 presenze 15 in serie a 7 in conference league e 4 in coppa italia c'è da dire che però la maggior parte sono anche state presenze da subentrato e ha fatto 26 presenze con quattro gol un assist e tre catene di gialli per un totale di 1135 minuti giocati ragazzi veramente veramente comunque un è stato comunque veramente un po un rendimento scarso poi comunque è stato operato al ginocchio più più volte come vedo qua dalla cartella clinica ragazzi ho portato al ginocchio è stato in panchina poi è stato anche avuto un'altra infortuna di ginocchio nel finale non lo so ragazzi un giocatore un po che mi lascia dei dubbi ok parametro zero che è tutto però se la lazio un tempo giocava con milenco vissabili c'è luis alberto adesso il prossimo anno posso ipotizzare un centrocampo con badiaciru castrovilli e guendusi insomma da quel punto di vista lì la lazio deve fare molto molto meglio ecco siccome deve fare molto ma è molto molto meglio di così per far che il centrocampo si è rimuo competitivo si casso di resta un'occasione di mercato a zero lo posso accettare perché comunque lo possono accettare così da lazio perché comunque ripeto è un free agent però fossi riposita la lazio sarei un po preoccupato forse in cario dottito inizia un pochettino a fare sul serio non con questi acquisti perché poi alla fine no sling forte ci può stare c'è una scommessa buona brava salernitana anche lo stesso badiaciru scommessa che era fatto bene il cambiato turco nono tavare sa anche lui da rilanciare castroviglio che è un altro che da rilanciare che deve comunque rimettersi in carreggiata ma poi acquisti veri forti e non sono ancora arrivati c'era greenwood che ormai sembra quasi fatto al marsiglia e bisogna fare meglio di così bisogna fare meglio di così secondo me ragazzi io direi che video può finire qua fate sapere un po voi cosa vi pensate appunto dell'acquisto della lazio di gaetano castrovigli se vi comincio oppure no anche a voi per i motivi che vi ho elencato io in questo video e anche ragazzi nella bella descrizione al canale mi raccomando guardate i video con i vostri amici facendo anche loro e attivate le campagne notifiche così non per i prossimi video che usciranno in descrizione anche il link del bar di questi channel e link anche degli altri miei pubblici social qui da Ali Bianconero è tutto ci vediamo poi per i prossimi aggiornamenti di mercato bella